29 guarigioni sono state registrate ieri a Torre del Greco. Certificate anche 7 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 2 in regime ospedaliero e restanti 5 in isolamento domiciliare. Di questi ultimi, 2 sono ripositivizzati. Attestato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare regime ospedaliero. Comunicato il decesso di due positivi, uno in isolamento domiciliare e l'altro in regime ospedaliero, di classe 1937-1958. Muta dunque il bilancio dei casi a Torre del Greco. Sono 31 gli ospedalizzati, 36 in isolamento domiciliare, 1859 guariti e 57 deceduti. A Torre ha annunziato 89 casi di contagio da Covid-19 negli ultimi 5 giorni. Registrate anche 41 guarigioni e 3 decessi. Sono 259 cittadini attualmente positivi, 240 posti in isolamento domiciliare e 19 ricoverati. Sale a 1272 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziato dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 986 guariti e 27 decedute. Si conferma il trend positivo nella città di Bosco Reale. Sono 442 guariti, un aumento consistente che fa scendere a 124 l'attuale numero dei positivi. Sono 9 deceduti da inizio pandemia.